L'unità operativa Polizia Investigativa Centrale ha realizzato un'incisiva operazione mirata al contrasto del commercio delle sigarette di contrabbando intervenendo in via Nolana, ed in via Sopramuro CHE ha portato al controllo, e alla segnalazione al DA. G di tre venditori ambulanti, al sequestro di numerosi panchetti mobili destinati all'esposizione dei tabacchi, e dal prelievo di confezioni prive di contrassegno dei monopoli di Stato per circa 60 chili di sigarette e di svariati marchi, molti dei quali sconosciuti al mercato italiano. .